Perché esercitarsi sulla comprensione del testo? Il motivo è rendere più efficiente la risoluzione del quesito in modo tale da aumentare la velocità e ridurre anche la probabilità di fare errori di distrazione. Ma per tutto questo ci vuole un metodo. Prima cosa da fare è identificare il contesto del nostro scritto. Guardiamo prima e dopo il testo. Sopra vediamo il titolo e in fondo invece la citazione della fonte. Infatti in questo modo è possibile capire se si tratta di un testo argomentativo piuttosto che un saggio, piuttosto che in questo caso un articolo della Costituzione. Seconda cosa da fare è leggere le domande in modo tale che la prima lettura sia subito focalizzata sulle risposte ai quesiti. Fase 3, sottolineare le parole chiave che abbiamo già trovato all'interno delle domande in modo tale che possiamo identificare dove sarà la potenziale risposta. Ma non è finita qui, abbiamo detto molto altro nella nostra lezione dedicata di SEPTU 2023. Per avere accesso gratuitamente a questa lezione e a molte altre lezioni gratuitamente va sul nostro sito www.promettetest.it e scopri come fare. Ciao!